La figura di Ulisse e la figura di Dante, anche da un punto di vista per così dire storico, rappresentano due modelli con molti elementi di somiglianza e di continuità. Dante cioè non poteva non vedere in Ulisse una figura già portatrice di alcuni dei tratti caratteristici del suo destino. Ulisse è il grande esule, è l'esule per eccellenza, non che qualcuno lo abbia condannato all'esilio, ma il destino, il fato di Ulisse e nel racconto dantesco lo stesso illimitato desiderio di conoscenza costringono Ulisse a una interminabile peregrinazione lontano dalla propria patria, cioè lontano da Itaca. Dante come Ulisse è un esule, tutti e due Ulisse e Dante, oltre che essere esuli, sfidano i limiti della conoscenza, tentano un viaggio spericolato per spingere la conoscenza al di là dei confini che solitamente l'uomo deve riconoscere e rispettare.